E ciao ragazzi, qui è Subbit e benvenuti in questo nuovo video tutorial su Mafia 2 Definitive Editions oppure sovannominato Mafia 2 Remastered Ragazzi, è un semplicissimo tutorial di come sbloccare alcuni determinati veicoli presenti nel gioco dato che alcuni di noi sono stati abituati a vedere il gioco solo nella modalità storia dovete andare soprattutto nella modalità contenuti aggiuntivi dato che la Remastered presenta i 3 DLC, ovvero il tradimento di Jamie, la vendetta e Joe Adventures qua sbloccherete determinati veicoli che non sono presenti nella campagna principale di Mafia 2 quindi io direi di andare con Joe Adventure perché con Joe Adventure già ci sono molti più veicoli nascosti dovete tenere in considerazione una cosa fondamentale cari ragazzi alcuni veicoli sono proprio nascosti alcuni vengono sbloccati durante le missioni ho messo Joe Adventure per farvi anche un esempio anche degli altri due DLC che bene o male è lo stesso identico concetto basilare quindi ragazzi fate molta attenzione adesso a un modo del tipo no? io sto con Joe, con Joe Barbaro adesso vi farò vedere i determinati veicoli che non sono tutti perché considerando che un camion non pullman non potrebbe mai entrare dentro a un garage quindi dobbiamo solo vedere vedete totalmente più altri dieci veicoli questo qua del tipo è della storia principale che si trova anche nella modalità storia questo qua invece ragazzi non lo si trova queste due ovvero la Cossack e la Roller G300 ragazzi li troverete solo ed esclusivamente come bonus per l'account della Ciukay quindi solo quando avete sbloccato vi siete collegati con l'account Ciukay che posseggo io qua su PSN che oltre alle macchine mi ha dato anche degli abiti per Vito nella modalità storia che un giorno vi farò vedere queste altre invece sono sempre DLC non è che ve li sto a dire infatti ancora queste e quell'altro e prima ancora erano dei DLC perché fanno parte sempre del contenuto espansione del gioco ne fanno sempre e dico sempre parte ok questo qua invece è il bonus per la Mafia Trilogy perché come potete ben vedere è il taxi che è presente in Mafia il primo quest'altro invece è la macchina presente in Mafia 3 quindi dato che l'intera trilogia io la posseggo qui su PS4 standard considerando che tutta la trilogia solo scaricato Mafia 2 Rimastered è collegato ho tutti i bonus della Ciukay quindi ho anche un grande vantaggio con i veicoli cosa che sono presenti anche in Mafia Definitive Editions il primo e poi Mafia 3 Definitive Editions poi altri questi qua si sbloccano anche nella campagna principale io li ho quasi bene o male quasi diciamo quasi tutti pompati al massimo mi dovete scusare ecco adesso non mi sembra riuscite di più a sentire la mia voce questi sono veicoli che si trovano nella campagna che li potete con tutta tranquillità anche importare qui da qua in poi come voi ben sapete conoscete il gioco di Mafia 2 i veicoli cambiano e man mano che proseguirete nella storia cambiano anche i veicoli io adesso vi sto facendo una rapida successione di immagini ma attenzione perché alcuni veicoli cari ragazzi sono nascosti e si trovano tra un po' metterò anche la mappa io adesso del tipo questa macchina qua non è presente nella modalità storia non è facile trovarla ma in tutte e tre DLC nei due DLC di Jimmy e anche quello di Joe si trova questo veicolo che è straordinario ragazzi vabbè questo pure si trova nella campagna nella campagna 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 non mi do e questa qua questo veicolo ovvero Delizia Grande America si trova solo ed esclusivamente in una missione di Joe Adventure ragazzi che si può sbloccare facilmente dovete solo pedinare il proprietario dell'auto e praticamente rubargli l'auto e ve la portate qui e infatti avete e siete come si può dire molto avvantaggiati come vi posso dire altri veicoli sono presenti anche in G nei due DLC di Jimmy del tipo un veicolo con le ruote scoperte che l'ho sbloccato tramite una missione specifica andiamo alla mappa per farvi vedere quella macchina di cui vi parlavo di cui vi parlavo perdonate la dizione dovete recarvi in questa zona qui in questa zona qui della mappa dove c'è l'osservatorio e anche una sottospecie di cimitero si trova questo veicolo altri invece si sbloccano nelle missioni infatti se vi devo dire proprio la verità falli fuori tutti e qua la missione dove si trova la macchina quella là la delizia grande america che è presente solo in Joe Adventure altri ve l'ho detto li dovete sbloccare tramite i DLC tramite i DLC oppure quei due veicoli aspetta mo vi faccio pure un attimo come si dice vi faccio pure sentire dei due veicoli ve li faccio pure sentire infatti guardate questa qua questa qua sembra la macchina di Crudelia Demon come vi posso dire cioè guardate qua qualcosa di stupendo cioè guardate guardate come è bellissima ragazzi è qualcosa di epocale sta macchina vi ricorda sì la macchina di Crudelia Demon davvero ve lo giuro adesso vi faccio vedere invece quell'altra poi vi faccio vedere le ultime due macchine ovvero quelle importate di tutta la trilogia questa invece l'ho modificata io l'ho modificata io per conto mio perché vedete una volta che anche con la versione PS3 perché io sto giocando la Remastered per PS4 anche con la PS3 questo era un bonus contenuto aggiuntivo per essere collegati all'account della Chukai infatti questi veicoli si sono ottenuti raramente infatti io nella versione vera nella versione PS3 non avevo questi veicoli non li avevo poi vorrei farvi vedere solo ed esclusivamente questi qua questa è presente in Mafia 3 ragazzi questo è il veicolo principale di Mafia 3 per dirvi no? per dirvi però è carino bello però dai ci potrebbe stare dai e poi guardate il lato positivo i veicoli da cosa? ah che palla aspettiamo un ottimo che si lasciano i bug solo per farvi vedere pochissimo dai comunque ve l'ho detto è semplice questo tutorial veramente molto molto semplice vabbè è finito qua dai e quell'altro invece è il taxi che è presente in Mafia 1 in Mafia 1 va bene ragazzi può essere una sottospecie di tutorial tra virgolette è ricco ma vi ho detto che alcuni veicoli li dovete sbloccare avendo i DLC quindi ragazzi io spero che questo video tutorial oppure video illustrazione vi sia servito a qualcosa vi invito a lasciarmi un bel mi piace un commento iscrivetevi al canale e qua da Subbit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video